21 luglio 2017 Siamo all'aeroporto di Malpensa e stiamo aspettando Jani Lajunen per poi portarlo per la prima volta a Resteca e a Lugano Hi, Marco, buona notizia, buona notizia Benvenuti, grazie And I give you a little present to welcome you It's a Lugano Carf This is for you and this is for you Oh, thank you so much And did you have a good trip? Yeah, of course We just have to wait for the steps Yeah, yeah, I know, I know Many, many luggage So we have the driver and now we are leaving for Lugano and for the Resteca We do this We do this We do this And we are so gonna but only have a little trip But the other way we are leaving for me We love you So your boy We do this Maybe she. come hai spento il vero dopo la World Championship in Paris? Prima ho preso un po' di resta, poi ho cercato di rilassare il mio corpo e poi ho cominciato un po' di lavorare e poi avevamo una festa, quindi ho dovuto fare tutte le cose per questo e poi il resto del summer ho proprio praticato Sì, Gianni, in Resteca, come è stato il saluto che hai ricevuto da altri giocatori o staff che hai ricevuto? È stato davvero bello, tutti mi saluto bene e ho presentato a me, e ho presentato a me, e ho presentato a me. È stato davvero un saluto, un saluto e un buon sentimento per me. Hai giocato in Finlandia, Svedenia e Nordamerica, come hai scelto la squadra nazionale 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 nazionale? Credo che questa è stata una buona opzione per me. Questa è una nuova lega, ho mai mai stato in una lega, ovviamente. È una buona opportunità, ho sentito molte cose buone cose, e queste sono le principali cose per arrivare qui. Quali tipo di giocatore sei? Sono un ragazzo, un ragazzo, un giocatore, un giocatore, un giocatore, un giocatore, un giocatore e un giocatore. E ho cercato di aiutare il giocatore in ogni modo. E ho cercato di aiutare il giocatore, un giocatore, un giocatore, un giocatore e un giocatore in Finlandia. Qual è il segretto per vincere? Non so se c'è un segretto per vincere, ma ho sempre stato in buoni team. E ho cercato di portare tutto il giocatore e tutto il team, quindi abbiamo la possibilità di vincere. E penso che sono un buon giocatore per questi team. E ho cercato di portare lo stesso giocatore qui. Qui in Lugano abbiamo alcuni giocatori importanti finlandi come Ville Peltonen, Petri Nummelin e Jukka Entonen. Ricordate loro? Ricordate loro quando ero un giocatore, ho guardato molti giocatori nazionalistiche, e i World Championships, e erano sempre qui. E erano davvero buoni giocatori. E erano grandi nomi in Finlandia. E' un honore di essere un giocatore finnese. E erano davvero buoni. Occhi Club Lugano è conosciuto in tutto il mondo, anche per i suoi fanno. E cosa vorrei dire a loro? E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa molto divertente. E' un'altra cosa divertente. E' un'altra cosa divertente, quindi proviamo di vincere il nostro meglio. E spero che ci supporti. E' un'altra cosa che è la prima volta in Lugano o in Sviterlande? Non, ero qui l'anno scorso, giocatore, ma venivamo solo qui e spaventavano. E non ho visto molto per la città o altro. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. C'è un'altra cosa. Laouv'la giocatore è quella dove, perché aspettavano. проблема che non sono fino a uno. Grazie a tutti